Per quanto riguarda lo sviluppo notizie interessanti, la Campania è oggi la prima regione in Italia per l'imprenditorialità giovanile. L'11,3% di nuove imprese sono imprese giovanili. La Campania è anche la prima in Italia per il tasso di crescita delle start-up innovative tra il 2020 e il 2022 con una crescita del 52%. Siamo anche la prima regione del Sud per il numero di brevetti depositati. In altri campi siamo secondi, terzi, ma per quanto riguarda start-up e imprenditoria giovanile davvero possiamo vantare risultati di assoluta eccellenza.